Come ogni anno, i prossimi 7-8 ottobre, la mela di AESM ritorna nelle piazze italiane in favore della ricerca sulla sclerosi multipla. In Italia ci sono 114.000 persone, di cui 11.000 giovanissimi under 18 con sclerosi multipla. Circa il 30% dei bambini e adolescenti con sclerosi multipla, come succede anche nella sclerosi multipla degli adulti, manifesta deficit cognitivi, in particolare a carico dell'attenzione e della velocità di elaborazione delle informazioni, della memoria, delle funzioni esecutive e delle funzioni visomotorie. Sono circa 3.400 i nuovi casi all'anno di sclerosi multipla, uno ogni tre ore. Negli ultimi tre anni AESM, insieme alla sua fondazione, ha investito 20 milioni di euro nella ricerca, ad esempio, sulle cellule staminali, sulla neuro-riabilitazione e sulle forme della sclerosi multipla progressiva e anche pediatrica. La sclerosi multipla è un'emergenza, è un'emergenza sanitaria ma anche sociale, perché come qualsiasi altro tipo di disabilità non riguarda solo la persona colpita o il familiare o comunque la nostra associazione che la sostiene, ma riguarda anche il contesto sociale in cui questa persona comunque vive. Sino al prossimo 9 ottobre si può anche inviare un sms di 2 euro al 45520. I fondi raccolti serviranno a sostenere uno studio innovativo per valutare la fattibilità e l'efficacia di un training dell'attenzione, i ragazzi di età tra i 9 e i 18 anni, a cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Anche in provincia di Agrigento, l'associazione italiana sclerosi multipla sarà presente questo fine settimana nelle piazze per sostenere la ricerca. Purtroppo ancora una volta numerosi volontari AISM scenderanno in piazza per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. Dico purtroppo perché sinceramente oggi avrei voluto darvi una notizia diversa, cioè quella di essere riusciti finalmente a sconfiggere questa grave patologia. Purtroppo non è ancora così, ma noi ci crediamo e continuiamo a lottare e a in piazza insieme ai numerosi volontari e a tutte quelle persone che credono fortemente in noi e nel lavoro che soprattutto AISM fa per le persone con sclerosi multipla. Quest'anno ci sono delle importanti novità. Saremo presenti in 16 comuni della provincia, 4 in più rispetto allo scorso anno, grazie ai numerosi volontari, attivisti, volontari in servizio civile, ragazzi delle scuole, delle parrocchie, altri volontari anche di altre associazioni di volontariato, ma soprattutto grazie proprio alle persone con sclerosi multipla che senza paura e senza vergogna finalmente hanno deciso di metterci la faccia proprio per dimostrare di essere più forti della malattia. Quindi vi aspettiamo numerosi, non solo per contribuire alla ricerca, con la raccolta fondi, ma proprio anche per chiedere delle informazioni sulla nostra associazione e sui servizi che offriamo gratuitamente alle persone colpite da questa patologia. A Favara saremo presenti in particolar modo in piazza Don Giustino, in piazza Cavourre, nelle parrocchie e nei vari supermercati, mentre ad Agrigento saremo in Via Tenea, al centro commerciale città dei templi, sempre in alcune parrocchie e nei supermercati. Questa manifestazione nasce comunque anche e soprattutto per far vivere i progetti proprio di Aisme a supporto delle persone con sclerosi multipla e soprattutto dei giovani, come ad esempio gli sportelli informativi e di orientamento, degli incontri anche di autoaiuto, dei convegni sul territorio che garantiscono un dialogo continuo con i ricercatori e poi anche la creazione di un blog www.giovanioltrelasm.it dove tutti i giovani possono raccontarsi e condividere le loro esperienze sulla patologia. Grazie a tutti voi per la collaborazione e per l'affetto che non ci fate mai mancare e grazie a voi di Sicilia TV. Troverete la mela di Aisme oltre che a Favara e Agrigento anche ad Aragona, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Sciacca, Ravanusa, Porto Empedocle, Raffadali, Sambuca di Sicilia, Cattolica Eraclea, Ribera, Castrofilippo, Racalmuto e Calamonaci. Per quanti volessero conoscere la realtà Aisme o avere semplicemente delle informazioni possono recarsi presso l'associazione Sita in via Colla di Rienzo 38 a Favara. La sede operativa è a Favara in via Colla di Rienzo numero 38. Ci trovate lì, trovate tutti noi volontari, i ragazzi in servizio civile dal lunedì al venerdì, sia mattina che pomeriggio, possiamo anche lasciare il numero del telefono che è 0922 32 191. Vi aspettiamo.